Ciao a tutti, diventa padrone del linguaggio del corpo. In questo video voglio spiegarti come diventare padrone del linguaggio del corpo. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai farmi delle domande in apposite live alle quali darò delle risposte precise. Allora, e veniamo al tema, diventa padrone del linguaggio del corpo. Allora, se vogliamo imparare a gestire la persuasione, la seduzione verso gli altri, dobbiamo imparare il linguaggio del corpo, imparare a gestire, diventare padroni del linguaggio del corpo, sia del nostro, sia di quello del nostro interlocutore. Cioè, noi possiamo comunicare attraverso il corpo e possiamo leggere la comunicazione non verbale del corpo, delle persone che ci interessano. Questo per ottenere dei risultati positivi nell'ambito della seduzione e nell'ambito della persuasione. La comunicazione non verbale, infatti, è più importante di quanto la nostra più febbre immaginazione potrebbe immaginare. E' una delle forme di comunicazione, infatti, più ataviche. La sperimentiamo sin da quando siamo neonati. Anzi, probabilmente già dalla vita intrauterina. E quindi noi dobbiamo imparare ad utilizzare il linguaggio del corpo sia in lettura, cioè leggere quello degli altri, sia in scrittura, cioè utilizzarlo consapevolmente, non più inconsapevolmente. Tra i segnali del linguaggio del corpo troviamo, ad esempio, la prossemica. La prossemica è la distanza tra una persona e l'altra. E avvicinarsi o allontanarsi al genere può generare più o meno tensione. E ecco, questo è un modo per, diciamo, capire, ad esempio, se una persona è interessata o meno a noi. E capire anche quanto questa persona deve desiderare o deve possedere. Se io, ad esempio, mi avvicino a una persona e questa persona si allontana, mentre io mi avvicino, ovviamente non è che devo fare un avvicinamento brusco, perché deve essere un qualcosa di soft. Comunque la persona si allontana, posso capire diverse cose. Posso capire, ad esempio, che è una persona con la quale io non ho ancora tutto questo potenziale, ma che comunque acquisirò il potenziale ricoprendo il ruolo di una persona che fugge, non di una persona che insegue. Perché analogicamente avvicinarsi vuol dire inseguire. Poi posso osservare, ad esempio, anche la cinesica, cioè la postura che le persone utilizzano. Questo mi dà altri segnali importanti. Ad esempio, quando una persona è seduta, una donna magari è seduta, con le gambe incrociate, guardo se le gambe sono incrociate con il piede della gamba superiore che punta verso di me, vuol dire che ha un'apertura nei miei confronti. Se invece è incrociato con il piede della gamba superiore che punta dalla parte opposta, quindi vuol dire che non ho acquisito il giusto potenziale. Allo stesso discorso vale per un uomo. Se è seduto vicino a me, ma con i piedi orientati nella direzione opposta, o addirittura al busto orientato nella direzione opposta, beh, questo significa che non ha un coinvolgimento nei confronti della donna. Per l'uomo che difficilmente incrocia le gambe vale più, diciamo, una situazione di questo genere. Ma anche la prossemica posso osservarla per quanto riguarda la postura di una persona che sta in piedi. Le persone che... il maschio che sta in piedi con le gambe aperte dimostra di essere dominante. Una persona, un uomo in questo caso, che vuole dominare. Le braccia, ovviamente, anche mi danno delle informazioni. Certo, se la persona sta di suo con le braccia incrociate, magari non vuol dire nulla, perché potrebbe essere comodo in questa posizione, potrebbe avere freddo, eccetera. Ma se lui non ha le braccia incrociate, se lui non ha le braccia incrociate, ma quando mi vede le incrocia, ad esempio, beh, significa che nei miei confronti, sta vivendo un rifiuto. E quindi c'è una chiusura. Questo è un altro segnale molto importante. Questo ci dice che la persona vuole, diciamo, essere in qualche modo, come dire, devo cambiare in qualche modo il mio comportamento per ottenere dei risultati. Altri segnali delle braccia sono, ad esempio, un braccio o entrambi addirittura sui fianchi, messi in questo modo sui fianchi. Questo indica aggressività e dominanza. È molto importante anche vedere la gestualità. intanto se una persona mostra le mani o non le mostra. Questo è fondamentale per capire il tipo di stato emotivo che la persona sta vivendo. Se la persona muove le braccia in modo agitato e soprattutto scoordinato con quello che dice, beh, sicuramente è una persona che sta vivendo uno stato di agitazione molto, molto forte. Se parlando tiene costantemente le mani davanti alla bocca, probabilmente mi sta mentendo. Se si tocca la bocca, invece sta gradendo la relazione con me. Se si tocca il naso, tende invece a rifiutare quello che sto dicendo. Se tiene le mani nascoste o dietro la schiena, è probabile che appunto mi tenga qualcosa di nascosto, non si manifesti. Se invece mostra i palmi, mostra le mani aperte, beh, è sicuramente una persona che, diciamo, da questo punto di vista è in sintonia con me e probabilmente è sincera. Se mi mostra i polsi mentre parla, evidenziando i polsi, significa che si fida molto di me e comunque sono in sintonia, c'è un legame sintonico. Le persone fanno anche gesti quando parlano. Potrebbero, mentre parlano, oscillare la testa in questo modo, il che significa che stanno negando quello che stanno affermando. E' come se la parte emotiva dicesse un no. Potrebbero invece dare un accenno annuendo su e giù il che significa sì. La persona potrebbe allargare e dilattare le sopracciglia ogni tanto, dilattando gli occhi e le pupille anche, il che significa un interesse anche fisico-sessuale nei miei confronti. Mentre invece chiuderle in questo modo significa un rifiuto. Chiuderle arricciando il naso significa anche una situazione di disgusto, quindi è proprio un rifiuto molto forte che mette nei miei riguardi. E poi c'è il sorriso. Il sorriso potrebbe essere un sorriso falso, asimmetrico, o fatto in questo modo senza interessare gli occhi. Quindi anche qua significa che una persona tende a mentirmi o comunque non è in sintonia con me. Oppure potrebbe essere un sorriso vero, quindi di sincerità, se la persona sorride con gli occhi anche. E il sorriso tende a essere simmetrico. La persona potrebbe toccarsi i capelli o la testa, che mi dà un segnale di attrazione, un segnale di gradimento. Mentre invece potrebbe avere degli scarichi di tensione, dei puriti dietro la testa, il che mi sta dicendo che sta vivendo una forte frustrazione. Potrebbe guardarmi, mantenere lo sguardo. Se lo sguardo è fisso e gli occhi stretti, è uno sguardo di rancore o di minaccia. Se guarda per tre, quattro secondi, poi distoglie un po', poi riguarda. Invece vuol dire che l'ho agganciata. Se tende a non guardare, guardare in basso, se guarda in basso tende ad essere una persona timida che forse sta mentendo. Se guarda in alto è una persona che mi sta in qualche modo rifiutando. Ecco, questi sono i principali segnali. Poi c'è anche la cinestesica, quindi il contatto fisico. Se una persona tende a toccarmi, è un segnale di gradimento. Se tende a toccare se stessi in questo modo, è un segnale affettivo, quindi una persona che ha bisogno di affetto. Se tende a pizzicarsi, a toccarsi in questo modo, significa una persona che ha molta rabbia, molta aggressività, che potrebbe poi scatenare nei miei confronti. Ecco, queste sono le cose fondamentali che tu puoi leggere, come comunicazione non verbale, ti daranno dei segnali molto precisi per capire che è davanti. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco, anche su TikTok. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai farmi delle domande alle quali risponderò in apposite live. Ciao a tutti! Grazie! Grazie a tutti!